Grazie Presidente, torniamo al discorso di prima praticamente, con questa interpellanza fa riferimento appunto alla discarica in oggetto in cui la cosa interessante è che i cittadini, gli enti locali, l'AS per due volte ha espresso parere negativo attualmente in fase di predisposizione da parte della struttura responsabile della via, la richiesta di integrazioni al proponente il quale poi contribuirà con queste integrazioni. Noi chiediamo appunto cosa ne tenete opportuna, anche alla luce dell'ancora mozione numero 19, l'autorizzazione a questa discarica e anche alla luce di un nuovo evento, tempo fa la falda acquifera della cava Gaburri, che è una cava in cui ci dovrà essere parte di questa discarica la falda acquifera è affiorata, è affiorata proprio a livello dove dovrebbe esserci la discarica e questo non è un evento eccezionale perché lì la falda spesso affiora, quindi questo può contribuire a dare ulteriori problematiche dal punto di vista ambientale per l'autorizzazione a questa discarica, per cui noi siamo curiosi di sapere se la giunta valuta opportuna la realizzazione di questa discarica in una zona che già altamente è sottoposta a stress ambientali come altre discariche, altre discariche di rifiuti radioattivi che ci sono nella zona, le acciaierie, l'inceneritore eccetera. Grazie. Grazie di nuovo consigliere Maccabiani per l'interrogazione. Beh, una piccola premessa che probabilmente si rende necessaria. Allora, né la giunta, né tantomeno gli uffici dell'assessorato ambiente hanno in qualche modo interesse, intenzione o motivo di particolare felicità quando si tratta di discutere di nuove discariche. E glielo sottolineo anche e soprattutto per i funzionari dell'assessorato che però si trovano a dover operare nella legalità e quindi a dover decidere sulla base di quelle che sono le norme che regolano la loro attività e tutte le procedure con i tempi, con la possibilità di sospensione o la non possibilità di sospensione degli ITER. Questa premessa è doverosa perché mi rendo conto che lei poi chieda alla giunta, ma la giunta oltre che dire quello che è il suo parere, ma che è un parere non dico personale, ma è un parere personale barra politico, demanda poi però la responsabilità e la decisione ai funzionari. Che ribadisco, hanno anche loro i loro pareri personali, si muovono in questo senso, non lasciano nulla di intentato proprio perché si rendono conto e condividono con me, senza dubbio ma con la giunta tutta penso, l'idea che comunque la regione Lombardia in generale abbia già dato, sotto ogni punto di vista, soprattutto quando si parla di ambiente. Poi come diceva lei prima, ogni tanto dobbiamo allargare le braccia e dire su questa cosa non possiamo intervenire direttamente, vero, ma non vuol dire che non ci si muova in altri canali. Io avevo già avuto modo nelle scorse sedute del Consiglio di sollecitare da parte di tutti, siete consiglieri regionali, più di me potete presentare per esempio progetti di legge che attengono anche una modifica della normativa nazionale. Sarebbe bello farlo in maniera trasversale, quello senza dubbio. Ognuno di noi poi è rappresentato in Parlamento, quasi tutti i gruppi qui presenti sono rappresentati in Parlamento, possono sollecitare i propri parlamentari, come ho fatto io e come farò anch'io in futuro, per muoversi in questo senso. Se siamo uniti la strada verso Roma e verso Bruxelles dovrebbe essere un pochettino più facile, non dico spianata ma un po' più facile. Venendo comunque a quello che è il contenuto della sua interrogazione, senza dubbio tra quelle che sono appunto gli elementi che hanno a disposizione i funzionari della DG Ambiente per le valutazioni che competono alla procedura di via, c'è proprio appunto la valutazione degli stressor ambientali. La Commissione di via, nell'ambito delle funzioni che le sono proprie, quindi farà tutte quelle che sono le valutazioni degli elementi raccolti e sottoposti alla loro attenzione. Per esempio, senza dubbio, ci sarà anche quest'ultimo elemento che lei riferiva relativamente alla falda. C'è però da dire che la valutazione degli impatti cumulativi è un procedimento ovviamente complesso che non consiste in un mero accertamento tecnico, ma che ovviamente comporta un'analisi molto approfondita e in particolare del territorio in cui si colloca il progetto e in particolare di quelli che sono gli effetti che non sono solo tecnici, che può avere appunto il progetto stesso. Proprio la presenza all'interno della Commissione via di competenze diverse come quelle degli uffici regionali, dell'ARPA, dell'ERSAF, dell'ASL o delle sedi territoriali garantisce che tutte queste valutazioni vengono fatte in maniera approfondita. L'impatto cumulato è determinato dall'effettiva presenza sul territorio di impianti, strutture ed infrastrutture, oltre a quelle in esame, che esercitano quindi una pressione sull'ambiente nella sua totalità e che viene rappresentata attraverso lo stato dell'ambiente e le sue variazioni negative, che sono appunto gli impatti. Ovviamente a questo si aggiunge poi la valutazione sulla salute della popolazione. Questo modello generale, che contiene molte variabili, ovviamente non tutte facilmente oggettivabili, ma ne avevamo già discusso in ordine alla questione Montichiari, deve essere di volta in volta adattato al caso in studio. Quindi non esiste sostanzialmente una formuletta che si può applicare a tutti. Anzi, giusto l'altro giorno ci stavamo confrontando con gli uffici e abbiamo visto come, per esempio, i criteri che vengono utilizzati in altre regioni, in altri stati, ben difficilmente si possono applicare in maniera uniforme a tutte le situazioni. Le dico che, per assurdità, se dovessimo applicare un criterio anche solo di rapporto tra superficie occupata da questi insediamenti e superficie totale del territorio a Montichiari, Montichiari risulterebbe ben al di sotto del 3% che utilizza il Veneto. Quindi capisce che non tutti... Questo tipo di valutazione deve essere fatta considerando non solo i dati, non solo dei rapporti meramente tecnici o meramente di calcolo, ma ci sono tutta un'altra serie di valutazioni. Come le dicevo prima, poi però, il recente studio svolto nell'area di Montichiari dall'Università di Bologna, ovviamente, sarà analizzato dalla Regione Lombardia nel dettaglio. Ebbene potrebbe rappresentare un valido esempio per identificare una metodologia che possa essere usata, seppur magari con dei correttivi in via generale. Certo è che, ovviamente, lo studio, mi ripeto ancora, essendo stato fatto non in contraddittorio, deve essere in qualche modo verificato anche dagli uffici. C'è da dire però che mi sento di poter affermare che Regione Lombardia, per quanto riguarda la questione ambiente, si sia nel tempo da sempre, soprattutto recentemente, dimostrata particolarmente attenta. Vi riporto la vostra attenzione, soprattutto la sua, consigliere Maccabiani, sul fatto che nel momento stesso in cui abbiamo saputo che sarebbero arrivati i rifiuti laziali, quindi pericolosi e non soggetti alla nostra disciplina, a Montichiari, sabato mattina, l'abbiamo saputo venerdì sera, sabato mattina già l'ARPA era presente per fare i dovuti controlli e i camion che non sono risultati in regola sono stati fermati e entro due settimane dovremmo ricevere i risultati delle analisi. Certo, lei diceva che non è di nostra competenza cosa possiamo fare, facciamo tutto quello che possiamo fare. L'ARPA, per esempio, è lo strumento che possiamo utilizzare in questo senso e interviene tempestivamente anche di sabato e in via d'urgenza. Quel poco che è dal punto di vista politico ci siamo noi e dobbiamo muoverci noi con le nostre, assumendoci la responsabilità di queste azioni o omissioni. Sì, grazie. Sì, su questo discorso di competenze normative che si possono cambiare certamente siamo d'accordo. Certamente siamo d'accordo che appunto questa normativa attuale, soprattutto sui rifiuti speciali, può dar luogo a queste, diciamo così, aberrazioni che si stanno verificando. Ma tuttavia, in riferimento proprio all'oggetto dell'interpellanza, questi strumenti possono comunque servire affinché la regione non autorizzi, perché qui abbiamo, all'interno di tutti i procedimenti di via, ci sono i pareri che vengono chiesti. Pareri ai cittadini, pareri agli enti locali, pareri alle autorità competenti per quanto riguarda la gestione sanitaria come l'ASL. Cioè noi abbiamo tanti pareri, tutti che sono contrari, però abbiamo delle normative tecniche che invece dicono che si può fare. Ma a questo punto seguiamo i pareri dei cittadini e degli enti locali o seguiamo le normative tecniche? Io penso che a questo punto, dove siamo arrivati, forse questi strumenti che ci danno già i pareri dei cittadini e degli enti, magari seguiamo quelli, invece che seguire la normativa tecnica. Perché se il parere dei cittadini e delle autorità competenti non conta niente, allora cosa chiediamo a fare ai pareri all'ASL, ai comuni e ai cittadini? Torniamo al discorso, noi come politica allora cosa facciamo? Cioè padroni a casa nostra ma alla fine arrivano dove vogliono i rifiuti. E questo è il concetto. Cioè gli strumenti, seppure limitati, perché capisco sono limitati, ci sono. Vogliamo seguire i cittadini o la norma tecnica? Questo è il punto di domanda che ci sentiamo di fare. Grazie.